Ateneo Si tratta di una iniziativa che è in continuità con gli esforzi fatti negli anni precedenti, infatti negli ultimi quattro anni abbiamo organizzato annualmente un corso di perfezionamento per i nostri docenti. Questa iniziativa nasce dallo spirito di miglioramento continuo presente nel nostro ideario, dal desiderio dell'Ateneo di rispondere all'invito di Papa Francesco rivolto alle facoltà ecclesiastiche e nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium di non solo adottare il metodo scientifico proprio delle discipline che si insegnano nelle università ecclesiastiche, ma anche di applicare opportunamente i recenti metodi didattici e pedagogici. E per ultimo nasce proprio dal desiderio dei nostri docenti di servire meglio ai nostri studenti, che sono il cuore del nostro Ateneo e l'oggetto della nostra missione. Anche dalla consapevolezza delle sfide che suppone per noi, per l'insegnamento, la nuova realtà culturale in cui sono immersi gli studenti delle nuove generazioni. Il titolo di esperto in docenza universitaria si prefigge come obiettivo contribuire allo sviluppo delle competenze relative ai seguenti ambiti. Le pratiche di ricerca e innovazione in aula, l'interazione educativa nel processo di insegnamento-apprendimento, l'attenzione personalizzata agli studenti e la progettazione di sistema di valutazione continua. Oltre a questi obiettivi, il corso intende continuare a promuovere lo spirito di comunità docente e la collaborazione tra i docenti e le diverse facoltà. Il diploma, la cui prima edizione contempla un massimo di 30 partecipanti, è di 15 crediti ECTS. Le lezioni presenziali si svolgeranno in modo intensivo in diversi momenti dell'anno accademico. Vi chiedo a tutti di affidare questa iniziativa alla protezione di Maria Regina Apostoloro.